Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui sempre il vostro caro Michele Maraglino, cantautore, produttore discografico indipendente, ufficio stampa, dal 2016 anche formatore e consulente musicale. Se è la prima volta che ti imbatti in un mio video, benvenuto. Iscriviti a questo canale se sei un musicista indipendente che si sta autopromuovendo. Qui trovi una marea di contenuti di video e anche uno sguardo al futuro e mi raccomando iscriviti. Oggi torniamo a parlare di ChatGPT, questo software di intelligenza artificiale, lo abbiamo visto in quel video in cui cercavo di scrivere una canzone d'amore stile Coetz attraverso questo software. Vattelo a vedere se te lo sei perso, te lo metto nelle schede. Oggi proviamo a promuovere musica con ChatGPT. Possiamo fare una marea di cose. ChatGPT al momento è gratuito, vi basta scrivere ChatGPT3 su Google, arrivate sul sito. E' praticamente la casa madre, cioè la società che produce questo software, si chiama OpenEye. Addirittura c'è anche un altro software della stessa compagnia che fa le immagini, ma ne abbiamo... non so se ne abbiamo già parlato. Comunque basta scrivere disegnami un cavallo impazzito e lui ti disegna un cavallo impazzito. Cioè tu puoi fare praticamente le copertine del tuo disco, prendere spunto, aiutato anche dal software di intelligenza artificiale, che in questo caso si chiama DAL-E. Poi ve lo faccio vedere. Ma torniamo su ChatGPT. Comunque OpenEye è una società che praticamente crea questi software che sono utilissimi. Cioè questa tecnologia dell'intelligenza artificiale sta cambiando e cambierà il mondo e anche i musicisti devono stare al passo coi tempi. Quindi se nel canale giusto qui abbiamo sempre un occhio al futuro, mentre tutti gli altri, non so, ogni tanto si sveglia qualcuno, fa dei video in cui dà consigli ai musicisti inutili, qui almeno sei un passo avanti rispetto agli altri. Quindi benvenuto. E allora, ChatGPT. Promuovere musica? Te lo dico io. Possiamo farci scrivere i post su Instagram, possiamo farci scrivere i post su Facebook, possiamo farci scrivere i video, possiamo chiedergli un elenco di siti dove pubblicare la nostra musica o mandare una richiesta di recensione. Possiamo chiedergli un elenco di radio. È uno strumento potentissimo. Allora, scrivi, è semplicissimo ragazzi, basta dargli un comando, scrivi un carosello Instagram per promuovere, promuovere una nuova canzone. Vediamo se ce lo, di solito ce lo dai in, vediamo se ce lo dai in italiano. Ecco un esempio di carosello Instagram per promuovere una nuova canzone. Slide 1, no vabbè, vi dice anche quali immagini mettere, poi vi dice il testo, voi potete andare su Canva, ci sono i template di Instagram, andate nella sezione social media, prendete Instagram post e componete, andate a cercare le immagini. Quindi, lui vi dice tutto, sia che immagini, sia che testo, andiamo a vedere. Allora, slide 1, immagine di copertina della canzone, titolo, nuova canzone disponibile ora, testo, siamo emozionati di presentare la nostra nuova canzone, nome della canzone. Cioè vi dice sia il testo da mettere nell'immagine che il testo da mettere nel post. Ma fantastico. Quindi, foto 2, slide 2, foto, video del cantante o della band che esegue la canzone, quindi uno vede l'immagine di copertina, poi scorre e vede foto e video del cantante o della band che esegue la canzone. Lasciati conquistare dalla voce il nome del cantante o della band e della loro nuova canzone. Vabbè, credo che la descrizione sia unica, possiamo mettere soltanto questa, siamo emozionati di presentare la nostra nuova canzone. Poi, slide 3, immagini del testo della canzone, le parole della canzone parlano direttamente dal tuo cuore, ascolta ora, nome della canzone. Slide 4, foto, video del making of della canzone, scopri come è stata creata la nuova canzone, nome della canzone, guarda il making of ora. 5, la call to action, clicca sul link nella bio per ascoltare la nuova canzone, su piattaforma, su Spotify per esempio, non perdere questa occasione. Poi ti mette anche gli hashtag, new music, hashtag nome della canzone. Pazzesco, cioè ti dice sia l'immagine che il testo da mettere. Ti può ispirare. Oppure, semplicemente, scrivi un post Instagram per promuovere una nuova canzone. Ed eccolo qua, che lui ci scrive. Ecco un esempio di post Instagram per promuovere una nuova canzone. Immagine di copertina della canzone e il titolo. Nuova canzone disponibile ora nel testo e poi il testo. Siamo emozionati di presentare la nostra nuova canzone, la sua melodia e le parole parlano direttamente al tuo cuore. Ascolta ora su piattaforma e lasciati conquistare. Non perdere questa occasione di scoprire la nostra nuova creazione. New music, nome della canzone. Ora, magari può risultare un po' freddo, ok? Metteteci, potreste modificarlo, però è una roba assurda. Soprattutto il carosello Instagram mi ha sconvolto, perché ti dice anche, ti dà uno spunto per l'immagine, per il testo da scrivere, per la descrizione del post. Stessa cosa potete fare su Facebook. Con Facebook. Scrivi il copione di un video YouTube per promuovere una nuova canzone. Ecco un esempio di copione per un video YouTube per promuovere una nuova canzone. Intro. Visualizzare il titolo e il logo della band e del cantante. Speaker. Ciao a tutti, siamo bla 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 bla, nome band e del cantante. E siamo emozionati di presentarsi nella nostra nuova canzone. Visualizza la copertina della canzone o un'immagine del cantante e della band. Speaker. Questa canzone è stata creata con passione ed edizione per parlare direttamente al vostro cuore. Ascoltatela ora e lasciatevi conquistare. Visualizza una clip della canzone che suona in sottofondo. Speaker. La metodia e le parole di questa canzone sono state create per ispirare e riempire il vostro cuore di emozioni. Quindi siamo sicuri che vi piacerà. Video making off della canzone. Ok, usa sempre diciamo lo stesso schema. Questa canzone è solo un'anteprima di quello che abbiamo in servo per voi. Continuate a seguirci e scoprite le novità. Outro. Visualizza il titolo e il logo della band e del cantante. Speaker. Grazie per aver ascoltato. Non dimenticate di ascoltare la nostra nuova canzone su piattaforma. Lasciateci un commento e fateci sapere cosa ne pensate. New music. Hashtag nuova. Il titolo della canzone. Ok. Certo, in base comunque, cambiando un po' il comando, possiamo farci, possiamo, allora il carosello, io ve lo consiglio su Instagram, utilizzatelo questo strumento. Poi per il resto magari vi fate ispirare, ma la cosa che vi voglio far vedere è scrivi un elenco di 15 siti di musica italiani che recensiscono musica emergente. Ecco un elenco di 15 siti italiani che recensiscono musica emergente. In the eye, rumore, on stage, rocksblog, sentire e ascoltare, lorison italia, rock it, spettacolo music, blow up, noi music, musica trap, musica pop, rock hall, india for bunnies, music map. Alcuni sono, vabbè, sì, blow up non credo che abbia una sezione, è un cartaceo, non lo so se è anche il sito, però, scrivi un elenco di 20 radio italiane FM che trasmettono musica emergente. Cioè, allora considerate che è affidabile, però può capitare che, che sbagli, qui ho messo Radio Rock, Radio 105, RTL 125, Virginie Radio, Radio DJ, Radio Città del Capo, Radio Centrosuono, Radio Rai, Radio Kiss Kiss, Radio Bruno, Radio Popolare, Radio Peter Pan, potete chiedere molto di più, puoi andare a cercare queste radio nel, su Google, prendere nella sezione contatti dove la trovate l'indirizzo mail e proporre il vostro brano, lo potete fare con le radio, con i giornali, con le webzine, anche con i cartacei, anche con i programmi televisivi. Proviamo, scrivi 10, no, scrivi, vabbè, non ci sono molti programmi, però voglio provare con le playlist, scrivi un elenco di 10 playlist Spotify, Spotify italiane, molto seguite, vediamo. Ecco, c'è tutto! Pop italiano, it italiana, rap italiano, indie italiano, rock italiano, le canzoni dell'estate, musica anni 80-90, musica italiana classica, musica per studiare e concentrarsi, musica per correre e allenarsi, qua possiamo mettere anche di più, 100 playlist, è pazzesco! Proviamo con TikTok, scrivi, scrivimi una strategia per sfruttare TikTok per promuovere una nuova canzone, è pazzesco, eh ragazzi? Ecco, una strategia per sfruttare TikTok per promuovere una nuova canzone. Crea un accanto verificato per la tua band o per il cantante che pubblicherà la nuova canzone su TikTok, crea un hashtag unico per la tua canzone che i tuoi fan possono utilizzare per condividere i loro video su TikTok, sfrutta le funzionalità di editing e gli effetti video di TikTok per creare video che presentino la tua nuova canzone in maniera accattivante e divertente, collabora con influencer e creator di TikTok per promuovere la tua canzone attraverso le loro pagine, partecipa a challenge e trend popolari su TikTok per aumentare la visibilità della tua canzone, utilizza l'audio originale della tua canzone come sound nei tuoi video su TikTok, bravissimo, condividi i video su TikTok e su altre piattaforme di social media come Instagram e Facebook per aumentare la portata della tua promozione, utilizza la pubblicità su TikTok per raggiungere un pubblico più ampio e targettizzato, TikTok ads, interagisci con il tuo pubblico su TikTok rispondendo ai commenti e coinvolgendoli nelle tue attività sulla piattaforma, monitora i risultati e continua a perfezionare la tua strategia TikTok in base a ciò che funziona e a ciò che no. Magari vogliamo vedere, qui mi ha detto, collabora con influencer creator di TikTok, allora noi gli diciamo, fammi un elenco di, facciamo 20, 20, influencer creator di TikTok disponibili a promuovere nuova musica, vediamo che mi dice, mi dispiace o non posso fornirti un elenco specifico di influencer creator di TikTok disposti a promuovere musica. La disponibilità dell'influenza di creator di TikTok a promuovere prodotti e servizi dipende dal loro pubblico e dalle loro preferenze e potrebbe cambiare nel tempo. Ti consiglio di utilizzare i motori di ricerca, le piattaforme di marketing digitale e le agenzie di marketing influencer per trovare influencer e creator di TikTok che possono essere interessati a promuovere la tua musica. Va bene, va bene, però ecco, con le playlist, con i blog, con le radio, vediamo, scrivi un elenco di cinque programmi televisivi italiani che parlano di musica emergente, vediamo se ce ne sono. Ecco un elenco di cinque programmi televisivi italiani che parlano di musica emergente. X Factor, amici di Maria De Filippi, stiamo messi bene allora, Italia's got, ma questi sono programmi, The Voice? Tale quale show, ragazzi, con questo, questa cosa è devastante, cioè l'Italia è un paese alla frutta, porca miseria. Va bene, chat GPT, possiamo creare post su Instagram, farci aiutare per scrivere testi, possiamo farci dire i contatti, i blog, le playlist, le radio e poi cercare su Google e mandare una mail, e promuoverci da soli. È pazzesco, ditemi che ne pensate nei commenti, vi aspetto e vi leggo, sono molto curioso di sapere cosa ne pensate di questa tecnologia e di come utilizzarla per promuovere musica e se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, ci vediamo molto presto con tante novità, ok? Stanno arrivando delle robe nuove, ok? Io sono meno presente, faccio meno video, perché sto lavorando dietro le quinte, usciranno due corsi nuovi, ma non sul mio sito, ma usciranno su altre piattaforme, lanceremo due progetti in collaborazione con due realtà incredibili, quindi restate sintonizzati, iscrivetevi al canale e commentate, fatemi sapere, noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!